Il territorio di Roma ha ancora numerosi valori di biodiversità. Uno dei tanti esempi e testimonianze di conservazione della natura è proprio questo dove siamo adesso, il Parco Regionale dell'Appia Antica. 3.500 ettari che dai castelli fino al centro di Roma tutelano una varietà di ambienti, di ecosistemi, altrimenti scomparsi a causa dell'urbanizzazione. E in questi ecosistemi, che erano diffusi e sono tipici della campagna romana, troviamo tante specie animali e vegetali, endemismi, specie rare che altrimenti non ci potrebbero sopravvivere. È grazie al Parco dell'Appia Antica che ancora oggi possiamo trovarle.